Buongiorno, la problematica sul recupero delle somme investite in conto capitale è più complessa rispetto ovviamente a quella relativa al recupero degli interessi. Da un lato non tutti i titoli sono ancora scaduti, dall'altro ovviamente la soluzione nella sua globalità non può che essere determinata da una ripresa dei pagamenti da parte del soggetto o dei soggetti, in questo caso Repubblica Venezuelana e Compagnia Petrolifera di Stato, emittenti dei titoli. Vi è tuttavia un segmento estremamente interessante in forza del quale è possibile immediatamente radicare una controversia al fine di recuperare una parte degli importi investiti in conto capitale. La causa verrà radicata nel nostro Paese, il soggetto è un soggetto in grado di far fronte all'eventuale sentenza di condanna e si potrà agire con causa collettiva, quindi socializzare i costi della causa stessa tra più soggetti. chiunque fosse interessato ad un approfondimento di questa iniziativa può prendere contatto con me attraverso le fonti che vedete in sovraimpressione, quindi post elettronica o quant'altro e successivamente, qualora vi fosse appunto una manifestazione di interesse effettiva dopo i primi chiarimenti che fornirò riservatamente, si potrà ulteriormente approfondire con un contatto telefonico diretto che vi offrirò attraverso un call center espressamente dedicato a questa iniziativa.